eccolo la sul tetto sta tirando una granata ok come c'è salito su quel tetto non mi uccidete ok oh qui 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 uno è l'aula oh attenzione altri 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 di qua 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 eccolo la eccolo la se si ferma lo trucido allora ok tre colpi dove andrà sembro zio tom che spara affanculo va dai dai dove stai maschiata boom c'è nessuno ok andiamoci una bella lattina ok oh oh devo riuscire a nascondermi dietro l'albero prima che questo mi metta sotto l'ho preso wow ragazzi cioè mamma mia mamma mia non dico altro non dico altro due colpi m16 in macchina shrood spostati dottor disrespect fate spazio grazie madonna quanti ce ne vogliono fuck dovevo farmi un pacco di cazzi miei eccolo la eccolo boom baby oh shit in testa no c'è proprio una nabbaggine quella ferma la così senza muoversi comunque sono state partitelle divertenti stasera a Grazie a tutti.